In questo breve tutorial saranno spiegate alcune funzioni fondamentali del registro di classe. Per accedere al registro di classe occorre fare clic sul pulsante blu. Bisogna ricordare che lasciando il mouse per qualche secondo sull'icona compare la targhetta detta tooltip con l'indicazione della funzione del pulsante. Cliccando sul pulsante blu si attiva il registro di classe. Compare la struttura scolastica, si sceglie quindi come al solito la classe e si attende che compaia il tabellone con indicate le materie e i docenti della giornata scolastica. Per prima cosa il docente deve firmare la propria presenza in classe semplicemente selezionando la riga dove è presente la materia e il nome e cliccando sul flag verde inserisci presenza. Soltanto a questo punto il docente può lavorare sul registro di classe. E' bene ricordare che il registro di classe non è attivo a casa. Il pulsante blu non funziona se non da scuola perché il sistema memorizza gli indirizzi, i numeri che siglano i computer della scuola e riconosce come computer validi per operare con il registro di classe solo le macchine che sono presenti a scuola. Una volta sottolineato, diciamo evidenziato, selezionato il rigo contenente la materia e il nome del docente è possibile aprire il registro di classe o cliccando sull'icona modifica oppure facendo doppio clic sul rigo selezionato. A questo punto il docente può inserire l'attività svolta quindi registrare quello che ha fatto nella mattinata per esempio controllo dei compiti assegnati oppure classico assegno e nella parte bassa i compiti assegnati a casa leggere e studiare le pagine 88 e 95 del libro di testo Dopodiché il docente può cliccare su conferma per rendere effettiva la registrazione Accanto alla scheda giornale che consente quindi di segnare l'attività svolta e di segnare sul registro i compiti per casa esiste la scheda assenze e giustificazioni Questa scheda va utilizzata per registrare la presenza degli alunni in classe ovvero l'assenza e per registrare gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate sostanzialmente il docente la utilizza per fare l'appello alla prima ora di lezione Supponiamo il caso dell'alunno Milide Salvatore assente clicchiamo sul suo nome e andiamo a segnare prelevandolo dall'elenco a discesa l'assenza del giorno bene evidenziata e si riconosce subito per il fatto che è scritta in stampatello le altre voci da utilizzare sono ingresso alla seconda ora alla terza ora ovvero alla quarta ora e le uscite alla terza alla quarta alla quinta naturalmente non vanno invece utilizzate malattia giustificata o malattia non giustificata permesso o altri elementi perché non sono codici che per il momento sono attivati nella seconda parte della schermata si troveranno registrate tutte le assenze che sono state realizzate dall'alunno ovvero i ritardi e questi richiedono una giustificazione nel nostro caso soltanto le assenze quindi quando l'alunno presenta il talloncino con la firma del genitore il docente potrà semplicemente mettere il flag spuntare il flag sulle assenze che vengono giustificate questo controllo può essere fatto giorno per giorno o anche periodicamente la parte bassa invece della schermata consente di inserire un'eventuale nota intendendo per nota appunto una nota disciplinare che può essere resa visibile anche alla famiglia l'alunno x disturba la lezione si segna l'ora in cui viene assegnata la nota e si decide di renderla visibile alla famiglia confermando il tutto con un clic sul pulsante conferma in questo caso annulliamo cioè che si tratta di una simulazione la terza scheda della finestra del registro di classe presenta il giornale nella modalità annotazione e corrisponde allo spazio che anche sul registro cartaceo era presente relativo appunto alle annotazioni che un docente scrive per ufficializzare per esempio un'attività a cui la classe o un determinato alunno o un gruppo di alunni è chiamato e per renderla quindi nota anche agli altri colleghi della classe ad esempio gli alunni x ed y parteciperanno il giorno 21 novembre ai campionati di corsa campestre ecco in tal modo anche gli altri docenti potranno leggere questa annotazione e sapere esattamente che cosa succede quotidianamente nella classe la gestione dell'appunto può essere fatta anche tramite la finestra modale che si attiva con il pulsante giallo e in questo caso è possibile scegliere la data in cui questo appunto deve poi comparire con il pulsante che si attiva che si attiva